Si infittisce il mistero sul clamoroso episodio in stile arancia meccanica avvenuto in pieno giorno in un'abitazione di Piazza del Galdo, frazione di Mercato San Severino. Un'anziana donna non udente di 86 anni è stata selvaggiamente picchiata nel proprio appartamento al terzo piano di una palazzina in via Largo Galdo, probabilmente a seguito di un furto non riuscito. Secondo i primi riscontri dei carabinieri di Mercato San Severino guidati dal comandante Alessandro Cisternino, il fatto sarebbe avvenuto ieri tra le 11 e le 13 e senza che nessuno si sia accorto di nulla. L'appartamento infatti si trova in una zona molto frequentata per via della presenza di alcuni esercizi commerciali, di una farmacia e vicino a una piazzetta e alla chiesa locale. I carabinieri non hanno registrato infrazioni alla porta di ingresso. L'anziana con problemi di udito è stata trovata dopo le 13 da una delle due nipoti che solitamente si recano a trovarla a casa ed era legata ad una sedia con una cordicella in condizioni fisiche precarie perché colpita ripetutamente sia al volto che in altre parti del corpo. L'abitazione era completamente sottosopra, non mancherebbero comunque oggetti di valore e soldi secondo le prime ricostruzioni. Tra l'altro l'anziana non possedeva somme ingenti di danaro, vive con la sua pensione che viene gestita a quanto pare dalle parenti più strette. I militari stanno cercando di accertare gli ultimi movimenti di danaro effettuati dalla donna o dalle parenti nel locale ufficio postale, così come stamattina c'erano sul posto gli uomini della scientifica nell'appartamento per effettuare nuovi rilievi. I carabinieri stanno controllando in queste ore anche le immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia per scoprire i movimenti avvenuti in questa zona nella fascia oraria che va dalle ore 10 alle ore 13. L'anziana intanto è ancora ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per via di alcune complicazioni renali dovute quasi certamente alle botte subite. E' quindi ancora giallo su questo squallido episodio di aggressione ai danni dell'86enne. Le indagini dei carabinieri di Mercato San Severino proseguono senza soste.